Si avvicina il giorno della festa di San Sebastiano, patrono di Mistretta, e la comunità aspetta con trepidazione la tradizionale processione della Varetta e del maestoso Fercolo con il simulacro scolpito da Noe Marullo. In tanti ammilano la macchina processionale barocca, con il suo colore dorato, che affascina per la sua bellezza e maestosità, ma in pochi conoscono il significato di questa vera e propria raffigurazione della Chiesa e dei suoi Santi. Per questo motivo il Comitato dei Festeggiamenti, nella giornata del 18 gennaio, presso l'Omonima Chiesa, ha organizzato un incontro con tutte le scuole di Mistretta, dalle elementari passando per le medie fino ai bienni dei licei, con l'architetto Angelo Pettineo e il restauratore dottor Gaetano Caruso. L'architetto Pettineo, grande studioso della storia della vara, nonché progettista e direttore dei lavori di restauro, ha spiegato all'attenta giovane platea la storia di questo Fercolo Barocco, da quando Giuseppe e Giovanni Battista Livorsi lo hanno realizzato e di come questa macchina processionale abbia un valore immenso, inconmensurabile e per questo tutti gli ammastratini, iniziando proprio dalle nuove generazioni, devono avere cura e rispetto per questa opera d'arte, che è un unicum nel panorama artistico siciliano e non solo. In questo oggetto non c'è niente di casuale e riesce a compendiare magnificamente le istanze della storia dell'arte dell'epoca e anche quelle nostre con le istanze catechetiche che a suo tempo ebbero i committenti nell'intendimento di trasmettere il messaggio cristiano alla collettività Mastratina e oggi anche alla collettività del territorio, della regione e alla collettività universale. Il dottor Gaetano Caruso invece ha illustrato i momenti del restauro della vara e nello stesso momento, tramite slide, ha fatto conoscere uno per uno tutti i santi e le raffigurazioni ligne che sono inserite nel maestoso Fercolo. Un modo in più per far vedere come questa vara non è una semplice macchina processionale, ma un vero e proprio il no alla fede cristiana. Dobbiamo fargli conoscere tramite il restauro, tramite quello che hanno e mettergli in testa che devono essere loro i custodi di quello che hanno continuato a conservare i loro padri, i nonni, i nostri antenati. Perché è un bene e devo dire che li trovo soprattutto dai più piccoli, si deve iniziare da più piccoli a farli avvicinare a quello che è l'arte, ma a qualsiasi cosa che gli giri attorno, che stia attorno a loro.